Coach Andrea Mazzon, analisi di una partita in cui ci sono state le risposte nonostante la fatica che degli ultimi impegni ravvicinati. Io credo che ci dimentichiamo tutti e questo non è un alibi alle ragazze, realmente le ammiro per quello che riescono a fare. Vorrei solo dirvi che abbiamo giocato Sassari, siamo ritornati, trasferte, siamo partiti alle 8 di mattina da qui, siamo arrivati in Israele alle 7 di sera, fatto allenamento. Il giorno dopo abbiamo giocato la partita, alle 3 eravamo fuori di mattina, praticamente senza dormire e siamo ritornati qua alle 3 del pomeriggio. Stanno facendo uno sforzo fisico che sembra banale o trovare alibi per loro, ma realmente è chiaro che poi nei quarti quarti i rischi di crollare, ma non perché non sono preparate, anzi tutt'altro perché il lavoro che fanno con i preparatori è eccezionale, ma veramente la richiesta fisica è esagerata rispetto a quello che succede. Ci insegna molte cose anche per il futuro, c'è da imparare perché evidentemente quando si fanno competizioni così bisogna davvero avere roster da 15-16 giocatori, perché altrimenti non puoi farcela. Comunque in ogni caso una vittoria importante contro una squadra che era in forma e quindi anche sia dal punto di vista della classifica che dal punto di vista mentale due punti importanti. Molto importante, dobbiamo ricordare che questa squadra ha perso all'ultimo secondo a Schio e quindi è una squadra che sta andando molto bene, sta giocando bene, abbiamo fatto un ottimo lavoro difensivo. Grazie coach.